Mezzo milione di euro per rifare il look al settore commerciale di Gorizia e la posta messa a disposizione del Fondo Gorizia con la delibera assunta dall'aggiunta camerale integrata del Fondo per concedere contributi a fondo perduto a negozi, imprese del commercio e del turismo e a strutture di ristorazione per coprire fino all'80% dell'investimento previsto. Lo stanziamento ha l'obiettivo di donare un'immagine migliore della città, stimolando l'economia emporiale locale e permettendo all'intero comune di presentarsi più attrattivo all'appuntamento della Città della Cultura 2025. Un bando rivoluzionario se vogliamo, è proprio un grosso investimento della Camera del Commercio attraverso il Fondo Gorizia che lo fa solo per il comune di Gorizia per cercare di dare un'immagine positiva e rinnovata a tutto il comparto commerciale, turistico, ricettivo e di somministrazione. Il bando sostiene investimenti dai 10.000 euro in su e il contributo massimo è di 70.000 euro a fondo perduto. Il numero dei possibili fruitori è desunto dalla banca dati della Camera di Commercio e pari a 282 imprese. Andremo a finanziare fino all'80% degli investimenti con massimali di 70.000 euro. Il bando parte il 20 marzo e con questo investimento, che partiamo con 500.000 euro ma rinnovabile per altri 500, abbiamo già inviato tutti gli operatori del comune di Gorizia l'avviso di questo bando tramite PEC, per cui nessun può dire non ho ricevuto. Il bando sarà attivo dal 20 marzo fino al 31 dicembre 2024. Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, oggi rispetta chiaramente tutte le attività a rimpermere i imprenditori e a rifare la loro. 70.000 euro di massimale, vi giuro sono tanti soldi e si possono fare bellissime cose.